Oggi è il 31 dicembre Oggi è il 31 dicembre e quindi questo significa ultimo giro dell'anno in compagnia di raffiguzzo e il stratellone Giretto proprio tranquillo, oggi cerchiamo un po' di neve E niente, siamo al video Eravamo un po' di mesi che eravamo fermi con i video ma finalmente siamo tornati, abbiamo un sacco di progetti nuovi e vogliamo portarvi con noi in queste nostre avventure Fra, cosa dici? Io direi soltanto di iscrivervi al canale tanto dai, è gratis, a voi non costa niente A noi ci supportate Allez, allez, allez Vien Partiti Attenzione, appena detto Non frena Non frena No, stai, si è persa la mia scena Così sono sceso Skiando Mamma mia Vai al culo Vai al culo Vieni 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 Mi faccio Battello ragazzi che figata bellissimo scendere in queste condizioni non tiene tantissimo ma pensiamo peggio dai adesso torniamo su per un'altra discesa e fa freddo siamo quasi siamo quasi dai ci riproviamo senza mettere il piede a terra dai 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 no mamma vai vai mamma mia bene buon oriante è via è via uff 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 Sì, sì, sì. Il video finisce qui ragazzi, speriamo di avervi fatto divertire e cogliamo l'occasione per farvi gli auguri di buon anno e ci vediamo l'anno prossimo con tanti nuovi video e tante nuove novità. Ciao ragazzi! Ciao belli!